38. Che noi chiamiamo pesci. Ho letto che la trota e la sogliola, il cui pigmento del lato inferiore del corpo, come avviene nei pesci piatti, è normalmente molto chiaro, diviene gradualmente scuro se questi pesci sono posti in un acquario di vetro illuminato dal basso. 39. Allora, tutto quello che avviene nel piano fisico ha una causa fisica e non superiore? Commento. La causa superiore risiede nel motivo per cui quei sensori dell'anima gruppo che noi chiamiamo pesci si sono incarnati come trota e sogliola. Il motivo è l'evoluzione dell'anima gruppo a cui appartengono. so E Grazie a tutti